Garantire trasparenza sulla provenienza degli alimenti e valorizzare agricoltura e circuiti locali. Così il primo firmatario Manfred Vallazza dell'SVP ha definito gli obiettivi della legge indicazione di provenienza degli alimenti nella ristorazione collettiva, approvate in aprile con 22 sì, 3 no e 4 astensioni. La norma è confirmata da Berghitte Foppa del Gruppo Verde che pur desiderando una misura più incisiva della sola indicazione obbligatoria UE non UE, necessaria per evitare l'impugnazione, l'ha definita un primo passo per una maggiore consapevolezza nonostante indicazioni più dettagliate restassero facoltative. Per parte delle opposizioni la norma non aiuta gli agricoltori ed introduce inutili sanzioni. Approvate con ordine del giorno le proposte dei Freiheitlichen di scaffali di soli prodotti altotesini nei supermercati e di Fratelli d'Italia a sostegno di esercenti che usano prodotti a filiera corta. Via Libera all'unanimità per l'altra legge presentata dalla SvP che modifica la norma sulimi per mantenere l'aliquota ridotta per la prima casa sulle abitazioni di anziani e disabili trasferiti in altro alloggio per motivi di cura. Tra le proposte dell'opposizione approvate quelle del Timca per ridurre i tempi di elaborazione delle domande di contributo prima casa e per valorizzare le comunità energetiche, nonché quelle di Enzian e Fratelli d'Italia, entrambe sottoscritte dalla SvP per sensibilizzare sul risparmio e raccolta di acqua potabile e per dare supporto abitativo e utilizzo gratuito dei mezzi pubblici alle forze dell'ordine. Via Libera anche alle proposte della SvP per più consulenza e meno sanzioni nell'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro e per la reintroduzione della festa di San Giuseppe. Durante la sessione la difensora civica ha presentato la relazione sull'attività 2022 caratterizzata da consulenze e reclami in aumento relativi in particolare a carenza di personale nella sanità, digitalizzazione della pubblica amministrazione, prezzi elevati dell'elettricità e inflazione. L'opposizione ha espresso disagio per la decisione di Gabriele Morandel di candidarsi, da questa comunicata ufficialmente due giorni dopo, con le proprie dimissioni. Nel corso della sessione è stato inoltre approvato il conto consuntivo del Consiglio Provinciale per il 2022 pari a 19 milioni circa, rispinta a una proposta di modifica dello statuto proveniente dal Consiglio della provincia autonoma di Trento. Eletto il magistrato Andrea Sacchetti, nuovo giudice della sezione bolzanina del Tar. Grazie. 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 Grazie.